Istanbul, nuovo aeroporto, scaletto di 10 ore, 10 ore, nuovo aeroporto molto carino, un po' ancora non alla mano, non ci sono bottigliette dell'acqua, costa tantissimo, un tiramisù è 3,70 euro e il caffè anche sui 3 euro, non ci siamo ancora, però per necessità abbiamo dovuto cambiare un po' di soldi. Stiamo aspettando di fare un tour chiamato Tour Istanbul, in pratica funziona che se sei qua più di 6 ore ci sono diverse possibilità di fare dei tour a gratis, poi vediamo a gratis cosa voglia dire perché non si sa, c'è una cena inclusa, c'è una cena inclusa però vedremo, vedremo se è veramente gratis. A parte tutto molto carino, molto nuovo, a lunghe distanze c'è da camminare a un botto, però sembra carino. Un aeroporto più grande? Sì ok, grande, però Ataturk ne sapeva anche. Adesso aspettiamo, intanto io mi faccio un diretto dell'aeroporto a vedere tante cose belle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.